Buonasera, bentrovati alla seconda edizione del Tg6 che noi apriamo con la cronaca giudiziaria perché si sono avvalsi della facoltà di non rispondere dinanzi al GIP del Tribunale di Pescara Gianluca Sarandrea, Mauro Mattucci e Antonio Gentile arrestati due giorni fa dagli agenti della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Pescara per una truffa ai danni dello Stato con sequestri di quasi 100 milioni di euro. Vediamo il servizio di Alfredo Primante. Sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Avete chiesto la deroga degli arresti? No, no, niente. Nessuna richiesta? Nessuna richiesta. Le condizioni dei suoi assistiti come sono? Buonasera, grazie a Dio. Vi saluto, buongiorno. Ma lei ha parlato di questo assistito? Ma ci parlo tutti i giorni. Che lei dice? Sono segreti professionali che non posso riferirvi. Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Mauro Mattucci ed Antonio Gentile arrestati mercoledì mattina nell'ambito dell'operazione Bancomat che ha portato altre 10 persone agli arresti domiciliari e che ha prodotto oltre 70 indagati e il sequestro preventivo di beni e quote societarie per quasi 100 milioni di euro. Le ipotesi di reato sono associazione per delinquere finalizzata alla consumazione di reati tributari, truffa ai danni dello Stato e di istituti di credito ed evasione fiscale. Il GIP Gianluca Sarandrea, i PM Cristina Tedeschini e Barbara Del Bono sono entrati nel carcere di San Donato attorno alle 10.30 e sono usciti dopo circa mezz'ora, giusto il tempo di verbalizzare l'indisponibilità a fornire risposte da parte di Mattucci e Gentile assistiti dall'avvocato Giancarlo Carlone. Mattucci, patron del Tortuga di Pescara, è considerato dagli inquirenti il dominus di un sodalizio criminale operante in Abruzzo e in altre regioni italiane nel settore dell'edilizia e del recupero dei rottami ferrosi. Gentile, secondo l'accusa, gestiva i rapporti con le banche ed era a capo di una holding che acquisiva società per svuotarle e poi rottamarle. A partire da mercoledì mattina saranno interrogati in procura gli indagati che si trovano agli arresti domiciliari. Ancora cronaca le tracce di sangue rinvenute sulle scarpe da tennis e sui pantaloni della tuta di Mirko Giancaterino il pregiudicato 36enne accusato dell'omicidio di Gabriele Giammarino, 80 anni, ex maresciallo dell'aeronautica trovato morto il 13 settembre scorso nella sua abitazione di via Bernardo Castiglione a Penne appartengono alla vittima e quanto emerge dagli accertamenti ripetibili eseguiti dai carabinieri del RIS di Roma un risultato che consentirà l'accusa di confermare e consolidare il quadro probatorio a carico dell'indagato accusato di omicidio volontario con l'aggravante della crudeltà. La relazione ora al vaglio del PM titolare dell'inchiesta Mirvana di Serio che all'inizio della prossima settimana avrà a disposizione anche i risultati riguardanti il primo esame macroscopico-autoptico eseguito sul corpo dell'ex maresciallo dal medico legale Cristian Dovidio Gian Caterino che difeso dall'avvocato Paolo Marino è rinchiuso nel carcere San Donato di Pescara ad occuparsi delle indagini e il nucleo investigativo dei carabinieri di Pescara guidato dal maggiore Massimiliano Di Pietro. E siamo ancora alla cronaca giudiziaria di nuovo in aula oggi in corte d'appello per la seconda udienza del processo Sanitopoli l'ex governatore della regione Abruzzo Ottaviano del Turco. Vediamo il servizio di Daniela Braccani. Sono fatture pagate, scadute, la regione avrebbe dovuto pagarle invece la banca aveva diritto a pretendere un pagamento con un tasso di interesse molto molto significativo. Secondo atto del processo sulla Sanitopoli abruzzese che nel 2008 fece cadere la giunta regionale di centrosinistra, allora guidata da Ottaviano del Turco, ex ministro delle finanze ed ex presidente della commissione antimafia. Nell'aula dibattimentale della corte d'appello dell'Aquila oggi, per la seconda udienza, le responsabili civili del processo sul presunto giro di affari e mazzette della sanità abruzzese, pubblica e privata. Tra le responsabili civili la Deutsche Bank, rappresentata in aula dal legale Massimiliano Danusso, in difesa dell'istituto bancario, che provvedeva ai saldi delle fatture emesse a nome del grande accusatore Vincenzo Angelini. Erano le fatture dei crediti che Deutsche Bank aveva regolarmente acquistato e rispetto alle quali si attendeva il pagamento da parte delle ASFA. Noi siamo sicuri di aver evidenziato tutti gli elementi per cui non c'è alcun coinvolgimento di Deutsche Bank e dei suoi dipendenti in questo processo. Sul banco degli imputati, anche oggi così come è stato per la prima udienza, l'ex governatore d'Abruzzo. La maxinchiesta Sanitopoli portò all'arresto e successivamente alla condanna, tra gli altri, dell'ex presidente della regione Ottaviano del Turco, accusato dei reati di associazione per delinquere, corruzione, concussione, tentata concussione e falso. Insieme al governatore d'Abruzzo sono coinvolti nel procedimento Lamberto IV, ex segretario generale dell'ufficio di presidenza della regione e l'ex capogruppo regionale del Partito Democratico Camillo Cesarone, condannati in primo grado rispettivamente a sei anni, sei mesi e a nove anni. L'appello inoltre riguarda anche l'ex patron della clinica privata Villapini di Chieti, Vincenzo Angelini, condannato dal Tribunale di Pescara a tre anni e sei mesi, l'ex manager dell'Asla di Chieti, Luigi Conga, a nove anni, l'ex parlamentare di Forza Italia, Sabatino Aracu, condannato a quattro anni, l'ex assessore regionale Antonio Boschetti, quattro anni, l'ex assessore regionale alla sanità Bernardo Mazzocca, due anni. La corte d'appello si occuperà anche di Gianluca Zelli, ex amministratore delegato della Human Jest e di Angelo Bucciarelli, entrambi assolti in primo grado, Francesco Di Stanislao, ex direttore dell'Agenzia Sanitaria regionale e Pierluigi Cosenza, ex presidente della commissione ispettiva permanente della regione Abruzzo. Le altre udienze si terranno domani 10 ottobre e successivamente il venerdì e il sabato di ogni settimana. La sentenza è prevista per fine anno. Cambiamo pagina, parliamo di ambiente perché il WWF Abruzzo denuncia le presunte agevolazioni statali alle società di perforazioni petrolifere che operano nella nostra regione rispetto a quanto accade sulla sponda opposta dell'Adriatico ed in particolare in Croazia. Fabrizia Arduini, referente Energia del WWF, si parla oggi di queste trivelle, delle trivellazioni in Croazia, cosa è successo e cosa non è successo invece dalle nostre parti? Solo l'anno scorso, non parliamo di 20-30 anni fa, i 40 contractor multinazionali andavano lì a contrattare per le prime 10 aree sulle 29 aperte dal governo croato per le trivellazioni, tutti i giornali italiani titolavano che la Croazia ci scippa questa grande ricchezza che è nei fondali del mare Adriatico e dopo neanche un anno, ecco qua la prima sorpresa quest'estate, le 7 aree su 10 date vengono abbandonate dai petrolieri e le ultime 3 è da pochi giorni che il governo croato prima della firma del contratto blocca tutto e quindi delle 10 aree non ne rimane più niente come attività. Noi come WWF già quest'estate ci siamo chiesti come mai 7 aree su 10 vengono abbandonate dai petrolieri e quindi abbiamo fatto due conti. Primo è il petrolio in calo, ma come mai in Croazia abbandonano in Italia, continuano ad arrivare, le ultime è la Global Med sul Golfo di Taranto. Secondo punto è i costi sulla sicurezza che sono i costi maggiori per un'attività così a rischio e terzo tutto ciò che ruota riguardo le franchigie e le royalties sulla produzione. Poi siamo andati ad analizzare la differenza dei trattamenti e vediamo che per le prime 37 mila tonnellate di petrolio estratto in Croazia si paga già quasi un milione di euro, 900 mila euro. In Italia non pagano niente perché scattano le royalties dopo le prime 50 mila tonnellate, quindi a 37 mila tonnellate in Croazia già versano quasi un milione. Noi le prime 50 mila le regaliamo, dopodiché scattano le royalties e per concludere abbiamo visto che in Croazia si paga su questo quasi cinque volte di più. Parliamo ora di politica, ci spostiamo a Pescara perché sono stati stanziati oltre 3 milioni e mezzo di euro per il piano triennale delle opere pubbliche da parte della Giunta Comunale del Capoluogo Adriatico, priorità alla manutenzione delle strade e al piano antiallagamenti. Del vecchio piano triennale delle opere pubbliche, questa mattina in conferenza stampa avete illustrato quelli che saranno i lavori per il prossimo triennio. È un piano triennale contenuto poiché le risorse a disposizione sono molto esigue, d'altronde la situazione finanziaria induce anche a questo ormai da un po' di tempo a questa parte, non abbiamo più l'apporto della risorsa mutua e quindi tutto ciò che possiamo fare riguarda quelle risorse che riusciamo a reinvenire all'interno del bilancio comunale. Oggi ci investiamo tutto, 3 milioni e mezzo di euro che speriamo restino tale fino alla fine e ci consentiranno di reassicurare serenità e togliere criticità al territorio cittadino. In più interveniamo ancora per eliminare il residuo di qualche frana e soprattutto l'antiallagamento. Un intervento nuovo, quello non previsto nelle precedenti annualità che riguarda la zona di San Donato e che quindi ci consentirà dopo gli interventi che faremo già nel corso di quest'anno di eliminare quasi completamente il problema degli allagamenti. A proposito di grandi opere vogliamo fare qualche nome? È quello che c'è sempre stato nel corso di questi anni, area di risulta, ex cofa, parco fluviale e quant'altro. Si tratta però di renderli coerenti del piano regolatore generale, cosa che non è mai avvenuto nel corso di questi anni. E allora per questo li abbiamo inseriti nell'annualità 2017 perché riteniamo oggi di svolgere un'attività di consapevolezza di ciò che deve essere lì realizzato e poi attivare le procedure di variante per renderle coerenti col piano regolatore e da quel momento in poi si dispiegano anche quelle che sono le ricerche per una finanza diversa da quella pubblica che non è in grado di sopportare un esborso di questo genere. E ora parliamo di scuole perché sono stati assegnati all'Abruzzo 9 milioni di euro dei 300 messi a disposizione del decreto del MIUR per la costruzione delle scuole innovative. Ascoltiamo l'assessore ai lavori pubblici della regione Abruzzo, Donato Di Matteo, e Annalisa Palozzo, consigliere provinciale di Pescara, il servizio di Francesca Romanatesti. Si parla di edilizia scolastica e si parla di davvero una grande notizia per l'Abruzzo. Arrivano dei fondi e sono tanti. Circa 10 milioni di euro destinate a progetti di poli scolastici innovativi e aggregativi. Si passa da una fase in cui i finanziamenti erano distribuiti anche su tutti i comuni, anche su quelle scuole che tra breve andavano a chiudere, a proposte innovative e aggregative che vanno nella direzione di costruire dei pressi nuovi, moderni per le scolaresche di più cittadine. Nell'ambito di questo progetto si sono individuate delle priorità. La prima è la realizzazione nella zona di Villarea, quindi nell'area metropolitana Pescara-Chieti, di una struttura nuova in un'area di proprietà della provincia di Pescara, dove si realizzerà un biocambus abbinato a un settore istruzione e di alloggio per gli studenti del settore cibo, sia l'alberghiero che l'istituto agrario. Poi ci sono interventi fatti nell'Alto Vastese, nella zona della Marsica, in località Colarmele, e più un intervento, due interventi proposti sul territorio di Teramo. È frutto di un grande lavoro e di un grande interesse. È stata fortemente voluta sia dall'amministrazione provinciale di Pescara che da quella comunale di Cepagatti. Io personalmente mi sono interessata della ricerca e della segnalazione di questa scuola, che rappresenta un vero e proprio campus da adibire, anche per utilizzarlo in modo da decongestionare le scuole di Pescara. Quindi potrebbe essere utilizzato anche per gli aspetti del convitto e per risolvere definitivamente il problema della scuola alberghiera di Pescara. È una struttura bellissima, si trova all'incrocio di due province, per cui abbiamo sia la parte chietina che pescarese, ben collegata, molto ampia, e quindi ringraziamo tutta l'amministrazione regionale, in particolar modo l'assessore all'edilizia scolastica, l'assessore Di Matteo, per aver portato avanti questa mia richiesta, frutto di lavoro iniziato da mesi e mesi. Andiamo avanti con il nostro telegiornale per parlare ora di meteo, perché nelle prossime ore è attesa anche sulla nostra regione una vasta perturbazione, condizioni in peggioramento, ma per parlare in maniera dettagliata di quello che accadrà in Abruzzo proprio nelle prossime ore, abbiamo questa sera in studio il nostro meteorologo Giovanni De Palma, che vedete inquadrato dinanzi alle isobare proprio delle prossime ore. Giovanni, grazie per aver accettato il nostro invito, buonasera. Allora, cosa dobbiamo attenderci per le prossime ore? Si parla di questo marcato peggioramento del tempo in Abruzzo. Eh sì, Paolo, buonasera a te e a tutti i telespettatori. Sì, hai detto bene, perché sulla nostra penisola è nato un peggioramento già annunciato nei giorni scorsi, un peggioramento provocato, favorito dall'arrivo di una perturbazione atlantica che inizialmente ha raggiunto l'entroterra algerino, ma che attualmente inizia a spostarsi verso la nostra penisola, come evidenziate dalle immagini dal satellite. Questa perturbazione scorrendo sui nostri mari occidentali darà luogo alla formazione e all'approfondimento di una circolazione depressionaria in lento poi spostamento verso la nostra regione, circolazione depressionaria che potrà dar luogo a episodi di maltempo anche sulla nostra regione. Maltempo che inizierà a manifestarsi comunque a partire dalle prossime ore, soprattutto in nottata e nelle prime ore della giornata di sabato, inizialmente sul settore occidentale, sulla Marsica, nell'Aquilano, con piogge diffuse in estensione poi verso il settore orientale della nostra regione, dove è previsto anche un rinforzo dei venti da prima dai quadranti orientali, quindi di grecale, poi successivamente nella giornata di domenica romperanno venti di tramontana con probabili mareggiate. Ma la caratteristica principale di questo peggioramento, se possiamo evidenziare la carta del tempo prevista per domani, sarà caratterizzata soprattutto da piogge diffuse localmente anche intense, inizialmente sul settore occidentale, poi in trasferimento nella mattinata di domani su gran parte del settore orientale della nostra regione. Insomma pioverà un po' su tutto il territorio regionale, poi dalla serata pian piano assisteremo a delle schiarite che via via tenderanno a divinire più ampie, soprattutto nella giornata di domenica, in particolar modo nella seconda parte della giornata di domenica, quando l'intera figura depressionaria tenderà poi a spostarsi ulteriormente verso i Balcani e favorire delle schiarite. Ma probabilmente sarà un miglioramento temporaneo perché poi anche nel corso della prossima settimana torneranno le perturbazioni atlantiche. Paolo. Giovanni, si è parlato in queste ore, si è letto, si è detto, si è scritto di cicloni, di uragani, vogliamo un attimo anche tranquillizzare i nostri telespettatori, sarà un'ondata di maltempo sicuramente pesante ma non eccezionale. Assolutamente Paolo, si tratta di una perturbazione tipica della stagione in corso, una perturbazione autunnale con classico approfondimento di un minimo depressionario proprio sulle regioni centro-meridionali in spostamento verso i vicini Balcani. E' chiaro che può piovere anche in maniera decisa, ci potranno essere anche dei temporali localmente di una certa consistenza ma non si tratta di cicloni o uragani, non si verificano quelli sulla nostra penisola, non sono i fenomeni che arriveranno nelle prossime ore. Io mi sento di tranquillizzare un po' tutti i telespettatori però ecco c'è da segnalare comunque la possibilità di piogge intense localmente persistenti a carattere temporalesco a partire dalla serata nottata ma ancor più nella giornata di sabato. Poi come ho anticipato poc'anzi la tendenza è verso un graduale miglioramento del tempo a partire da domenica e soprattutto nella seconda parte della giornata di domenica Paolo. Bene, io ringrazio Giovanni De Palma per essere intervenuto nei nostri studi. Giovanni De Palma che ritroveremo e ritroverete domani mattina intorno alle 7.20 nel corso di mattino 6. Grazie Giovanni, buon lavoro e buona serata. Grazie, buona serata a te Paolo e a tutti i telespettatori di TV6. E siamo ora alla pagina della Barcolana di Trieste, un villaggio Abruzzo è presente proprio nella città giuliana. Si tratta di una vetrina eccezionale per la regione che avrà la possibilità di far conoscere tutte le proprie eccellenze nella regata velica più importante d'Europa, giunta alla 47esima edizione. Ma per saperne di più ci colleghiamo in diretta con Trieste dove c'è la nostra Francesca Romana Testi. A te Francesca. Ciao Paolo, allora io mi ricollego a quello che è stato il servizio poco fa, Giovanni De Palma parlava di meteo. Allora noi vi facciamo vedere, questa è la prima giornata di bel tempo che c'è stata a Trieste, vi facciamo vedere un'immagine di pochi minuti fa registrata proprio dalle nostre telecamine, è un tramonto sulle barche, su quello che è il mollo di Trieste, su quello che è la conclusione di questa giornata dove si sono affollati professionisti appassionati, curiosi. È stata davvero l'apertura della Barcolana, il villaggio, quello popolato da centinaia di migliaia di persone, quello per cui l'Abruzzo è venuto qui, questa grande vetrina si è aperta ufficialmente oggi. L'Abruzzo, esattamente noi ci troviamo come anche era successo ieri nella mostra permanente degli artigiani abruzzesi, c'è stata una giornata in cui sono stati all'opera il Mastro Ferraio e poi il Mastro Ceramista, lo Scalpellino, in questo momento c'è anche la banda di Collarmeno di L'Aquila che sta popolando le strade di Trieste, ma questa giornata è stata importante perché sono arrivati i big, i big della Barcolana e cioè le leggende della vela. Allora noi siamo riusciti anche ad avvicinarne una e vi raccontiamo tutto in questo servizio. Ve le spiegate, musica, animazione, migliaia di presenze, equipaggi che si incontrano e si abbracciano, si conoscono tutti come una grande tribù, parlano di aspetti tecnici, commentano le imbarcazioni e cercano tra la folla i big della vela, quelli che hanno fatto la storia, tutti conoscono il nome delle loro imbarcazioni. Con una intera area dedicata e nel cuore della Barcolana Village spicca lo stand di Paul Cajard, America's Cup, il Moro di Venezia, una leggenda per tutti, nel gota dei velisti, mancabile Mauro Pelaschie, olimpionico Coppa America e un'infinità di competizioni alle spalle. Con la naturalezza di chi non fa delle vittorie a una distanza ci invita a salire e ci racconta ricordando insegnamenti e prove vissute sul mare. Le caratteristiche di un velista quali sono? Tante, prima cosa bisogna saper vivere il mare, quindi umilmente abbiamo imparato anche a beccare, beccando delle batoste serie a rispettare la natura, rispettare il mare, rispettare il vento e ovviamente senza paura però con rispetto far sempre tutto quello che è la nostra possibilità per portare la barca a terra. Invece diceva il mare ci ha insegnato anche a prendere delle batoste, allora in una carriera fatta di regate veramente importantissime c'è un ricordo di una difficoltà che ha attraversato? Sì, è brutta anche. In Oceano Indiano stavamo facendo la regata intorno al mondo, la seconda tappa partiva da Punta dell'Est in Uruguay e arrivava a Friumento in Australia, eravamo in Oceano Indiano a 2.500 mila dell'Australia, abbiamo rotto il timone e la barca e quindi abbiamo cominciato a imbarcare acqua, per fortuna la barca era predisposta con le palatine stagne, abbiamo salvato la barca e poi in dieci giorni siamo riusciti a raggiungere il continente navigando al limite delle nostre possibilità. L'Abruzzo arriva a Trieste per partecipare alla barcolana e ad accoglierlo c'è la Federazione Italiana Vela, il vicepresidente è un abruzzesissimo giuliese. Innanzitutto mi fa piacere da due punti di vista, primo perché sono comunque abruzzese quindi vedere la propria terra fuori dai confini della regione è sempre importante, poi in un contesto come la barcolana che credo esprima il punto di eccellenza della vela fa ancora più piacere, quindi lo colgo questo con un grande piacere proprio. Ecco per chi conosce l'Abruzzo ed ha un ruolo così importante nella federazione della vela, com'è configurato l'Abruzzo, la sua portualità e soprattutto questa è una regata, perciò l'Abruzzo ha diverse tradizioni, non solo quella della vela. Indubbiamente l'Abruzzo ha comunque una posizione importante di centralità, di portualità, anche se io credo onestamente può fare di più, nel senso che mancano quelle strutture recettive a livello del territorio, il territorio può esprimere tantissimo ma la portualità probabilmente negli anni dovrà crescere, questo credo che sapere i propri limiti serve per migliorare il futuro. Il mondo dello sport nautico può dare tantissimo al territorio e noi credo dobbiamo ancora crescere molto. Il weekend della 47esima barcolana si apre con un popolo di appassionati, professionisti e curiosi che trasformano Trieste nella capitale europea della vela. Dammi l'ok. Queste dunque le dichiarazioni e soprattutto anche le interviste fatte per quelli che sono i protagonisti big di questa barcolana. Ci ricolleghiamo a quello che è ovviamente la notizia del meteo perché anche qui a Trieste arrivano notizie di peggioramento, perciò sono state anticipate le gare di domani. È in corso dalle 19, la notturna era prevista per domani ma domani sarà una giornata dove davvero c'è l'allerta per la Bora. Ricordiamo può arrivare anche a 180 km orari, perciò Trieste e anche i suoi velisti sono abituati a gestire in pochi secondi quello che può essere una fortissima raffica di vento. In questo momento ci sono queste gare, domani dovrebbe essere la giornata delle prove, quella in cui si esce in vela, si fa il cosiddetto allenamento il giorno prima della barcolana, la gara ufficiale. Perciò noi vi diamo appuntamento a domani con tutti gli aggiornamenti. A te Paolo. Bene, ringraziamo Francesca Romana Testi in collegamento diretto da Trieste. Torneremo domani a parlare della barcolana proprio nel corso dei nostri Tg. Cambiamo pagina, parliamo di cultura, la fortezza eretica di Civitella del Tronto nei documenti del Cinquecento. La scoperta di materiale inedito rinvenuto nell'archivio della Curia Vescovile riporta alla luce infatti i contrasti esistenti tra la diocesi di Teramo ed il potere laico all'epoca della riforma protestante. Se ne parlerà domani nella sala convegni dell'hotel Zunica di Civitella del Tronto. Elisa Leuzzo. Civitella del Tronto vista con due episodi importanti di storia. Sì, questa volta non è mangiare, è storia, ma dopo una pausa dalla fine delle manifestazioni estive abbiamo deciso di riprendere comunque un argomento interessante. L'associazione Orgoglio Civitellese ha sposato subito la scoperta fatta dal professor Artese insieme al dottor Sospetti e quindi sabato prossimo appuntamento a Civitella a capire come mai anche da noi ci sono degli eretici. La finalità e l'importanza sono altissime perché questo incontro è nato dai miei contatti col professor Luciano Artese che insegna storia e filosofia al liceo classico a Teramo. L'incontro è molto importante perché mette in luce un aspetto nuovo sulla storia di Civitella del Tronto perché siamo abituati a conoscere la storia di Civitella del Tronto che è una storia soltanto militare prevalentemente. Invece questa volta entrano in campo diversi protagonisti e tra tutti il governatore di Civitella che addirittura viene accusato di essere un eretico e un luterano e siamo a metà del Cinquecento quindi siamo subito dopo il post concilio di Trento ed è un periodo in cui si fa intensa la caccia alla dissidenza e all'eresia. Quindi Civitella è protagonista non solo di eventi bellici che tutti noi conosciamo ma anche di un aspetto nuovo che nessuno prima d'ora aveva conosciuto che è quello dell'eresia e dell'inquisizione. E noi restiamo in provincia di Teramo perché sabato 10 e dunque domani domenica 11 ottobre a Montorio Alvomano ci sarà l'appuntamento con il primo concorso organistico internazionale evento promosso per valorizzare l'organo più antico d'Abruzzo. Montorio Alvomano ospita il primo concorso organistico internazionale evento promosso dalla Proloco di Montorio in collaborazione con il Comune per valorizzare l'organo più antico d'Abruzzo. È il fioralocchiello del nostro calendario di manifestazione per quello che riguarda l'autunno, l'amministrazione l'appoggia in maniera molto forte e spera che questa manifestazione neonata possa crescere e sviluppare comunque interesse verso il nostro territorio che ha bisogno comunque di essere ancora visitato e conosciuto per quello che ha di bello a partire da quest'organo che è il più antico d'Abruzzo come dicevi e che sicuramente farà bella mostra di sé nei giorni di sabato e domenica. Segue un filone che abbiamo intrapreso già circa dieci anni fa di direzione artistica della Proloco, quello di valorizzare non solo le tradizioni ma anche le caratteristiche uniche che ci sono nel territorio, presente nel territorio del nostro comune. Nel 2012 è stato restaurato l'organo di Montorio, l'organo della collegiata di San Rocco che è stato definito l'organo più antico d'Abruzzo. Un organo cinquecentesco, poi di impianto seicentesco in realtà ma che ha origini alla fine del Cinquecento e quindi con questo concorso internazionale vogliamo far conoscere il nostro organo su tutto il territorio nazionale. Un evento promosso dalla Proloco di Montorio sempre attenta agli eventi? Sicuramente sì, poi nel momento in cui ci siamo accorti di avere questo gioiello a Montorio che è del Cinquecento praticamente. E chiaramente che ci ha riempito d'orgoglio e lo curiamo in modo affettuoso proprio. Nella giuria grandi nomi del mondo organistico internazionale. Matteo Inbruno che è organista della Regina d'Olanda, laude Kerk, Anton Pam che è docente al Conservatorio di Amsterdam e il maestro Gian Domenico Piermarini organista della Basilica Papale di Roma, nonché direttore del Conservatorio dell'Aquila che sponsorizza questa manifestazione proprio per dare lustro e equità anche di giudizio ai partecipanti. Siamo lo sport, parliamo del Pescara perché cresce l'attesa in città per la gara di domenica sera alle 20.30 ad Ascoli. Questo pomeriggio i biancazzurri hanno lavorato al poggio degli ulivi agli ordini del tecnico Massimodo. Non ci sono buone notizie per Zampano che sembrava recuperato ma che nella partitella finale ha abbandonato anzitempo il campo a causa di un risentimento muscolare. Le sue condizioni verranno valutate nella giornata di domani. La sua presenza ad Ascoli resta in dubbio. Ristabilito invece Mattia Valotti dopo il lieve infortunio di ieri. Il centrocampista è stato infatti impiegato interno sinistro con Torreira centrale e Selassi interno destro in una mediana che conta già di tre defezioni importanti, ovvero i nazionali Mandragora, Verre e Memuschai che saranno assenti. Potrebbe essere questa una soluzione ma è giusto usare anche il condizionale perché scalpita per rientrare in campo Bruno, reduce da una lunga squalifica e che sarà finalmente nell'elenco dei convocati. Bisognerà però considerare che il centrocampista di Benevento non disputa una gara ufficiale da diversi mesi. La giornata è stata chiusa da una partita su metà campo con tocco libero. Domani i Biancazzurri effettueranno una seduta mattutina a porte chiuse alle ore 10 mentre nel tardo pomeriggio è prevista la partenza per il ritiro. Marchigiano ancora a calcio, parliamo del Teramo perché il tecnico Vincenzo Vivarini prendica umiltà dopo le ultime due sconfitte. Il trainer Biancorosso si concentra sulle prossime gare e parla anche del momento che sta vivendo la sua squadra. Una settimana di grande lavoro, in questo momento qua abbiamo bisogno di lavorare, dobbiamo sistemare tante cose e quindi c'è da lavorare. La squadra diciamo in questo momento qua è molto disponibile e ha voglia di far bene, quindi questa è la cosa più importante in questo momento qui perché comunque noi siamo abituati sempre a cercare i risultati con determinate cose, con il lavoro, con l'organizzazione, con una mentalità giusta, con un'aggressività giusta, con la forza del gruppo e questo di solito lo si costruisce in precampionato, mentre invece noi quest'anno dobbiamo essere bravi a far di necessità virtù, nel senso che in poco tempo dobbiamo subito sopperire alle carenze che abbiamo. Dobbiamo cominciare a guardare la classifica perché noi siamo una squadra che sta penultima in classifica e quindi è importante affrontare la partita con la Lupa Roma, con questo spirito, non pensando di essere una squadra forte. Questo è una novità prima, ministro. Sì, è una novità perché per me dobbiamo assolutamente analizzare ed essere realisti perché bisogna che acquisiamo quella fame, quella determinazione, quella rabbia che praticamente è quello che ci permette di fare il risultato. Se noi pensiamo di essere più forti della Lupa Roma sbagliamo di grosso. Loro hanno soprattutto in mezzo al campo quadri che hanno tantissima tantissima qualità e poi anche D'Agostino, giocatori che la palla sanno dove lo devono mettere, Leccesi lì davanti fanno questo 4-3-1-2 abbastanza bene, quindi dobbiamo essere, affrontarli con un'umiltà, veramente con grandissima umiltà. Con le parole del tecnico del Teramo Vincenzo Vivarini siamo giunti al termine della seconda edizione del TG6. Grazie come sempre per averci seguito e buon proseguimento di serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.